Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Analisi Meta, io sono Vicious, oggi siamo praticamente al 19 del mese, andiamo a vedere alcune informazioni per quello che riguarda la ladder standard, come sempre. Ovviamente c'è stata patch di bilanciamento, è stata intorno a il 6, è stata rilasciata, sono passati diversi giorni, quindi si possono fare, si possono fare praticamente due settimane, e quindi si possono iniziare a fare le prime considerazioni, andiamo a vedere lista per lista, qua su metastats.net, informazioni base. Qua vediamo subito sulla sinistra quali sono i deck che hanno avuto più successo negli ultimi 4 giorni, al primo posto Secret Mage, Cube Warlock, Murlock Paladin, Agro Paladin, Spiteful Priest, Spell Hunter, Control Warlock, Face Hunter, Xodia Mage, Mill Rogue. Bene, per quello che riguarda le liste individuali, con un minimo di 300 partite negli ultimi 4 giorni, vediamo Secret Mage al primo posto, con un actual win rate che va addirittura al 70%, Cube Warlock al secondo posto, Murlock Paladin, Agro Paladin, esattamente, praticamente molto simile a quello che vediamo qua a sinistra, però c'è una seconda versione di Secret Mage, che si trova al 55% di actual win rate, poi c'è il Bayesian win rate che adesso non sto qua a spiegarvi, Spiteful Priest, Spell Hunter, ancora una volta, Secret Mage, Cube, Cube, Murlock, Control, Control, Face. Andiamo giù, vediamo invece per rank, quali sono le liste che hanno più successo in ladder, per quello che riguarda da rank 20 all'11, l'ultimo update è riservativo al 13, oggi è 19, quindi siamo un po' in ritardo, comunque, Murlock Paladin, Secret Mage, Spiteful Priest, Cube Warlock dal 20 all'11, Murlock Paladin, ancora una volta, al primo posto, come Secret Mage al secondo e Spiteful Priest al terzo, dal 10 al 6, e ci ritroviamo al Queen, da rank 5 a Legend, Murlock Paladin, il Secret Mage, droppa tanto, Spell Hunter e Spiteful Priest, perché, evidentemente, penso sia, perché la gente, quando raggiunge rank 5 è un filo più competente, è la presenza, magari, superiore di Spell Hunter e Midrange Hunter, metto un po' in difficoltà, Secret Mage, Mage, che è una classe che, da sempre, da sempre, ha sofferto, ha sofferto Hunter, per la natura dell'euro power dell'Hunter, che gli permette di andare a proccare l'ice block, anche nel momento in cui siamo con una board congelata, o non possiamo swingare di arma. Le informazioni più secondi sono sicuramente queste, meta, il cambiamento dei meti, il cambiamento nel meta dalla patch del 2 febbraio, si possono vedere dei cambiamenti grossi, cioè, post nerf, post nerf, vediamo che il Secret Mage, questo è il Secret Mage, ok? Vediamo l'andamento, dal 6, Secret Mage esplode in utilizzo, segue abbastanza il counter naturale di Cube Warlock, quindi il Cube Warlock comunque viene giocato molto, lo Spiteful Priest abbastanza costante, l'agro paladin, post nerf di Patches, va un attimo a soffrire, perché? Perché senza la presenza di Patches, senza i Corridor Creeper, l'agro paladin sembrava dovesse andare a soffrire, poi si trasforma tutto un tratto, si trovano altre linee in cui giocarlo, lo si gioca completamente in versione Murlock, lo si gioca in versione Silverhand paladin, e il deck performa molto bene, l'ho portato anche durante le mie live, è anche piacevole da giocare, paladinò, con il pacchetto Murlock è una sicurezza, cioè, è una lista, un Evergreen, sin da Viaggio ad Ungoro, Murlock paladin, giocato in precedenza con Decorator, Primordial Drake, magari una lista un po' più lenta, con dentro lo Spike Red Steed, poi si evolve, viene giocato più aggressivo, con dentro di Divine Favor, però è una lista, il paladino in versione agro, il paladino in versione Murlock, che è sempre stata molto efficiente per quello che riguarda la ladder, ha sempre avuto una winrate molto alta, da top tier, anche se lo sutilizzo non era molto alto, questa è una discussione che si è fatta tante volte durante il meta-analisi, cioè cosa? Che nonostante la winrate del paladin fosse una delle più alte, il deck veniva rappresentato poco, per una questione di gusto, di noia, perché si preferiva giocare una lista più nuova, più in meta, eccetera, eccetera, eccetera. Il Control Warlock, anche lui, aumenta tanto di utilizzo, Dragon Priest, io lo considero abbastanza, non è in realtà simile allo Spiteful Priest, per Dragon Priest immagino intendano quella lista a struttura draghi, che gioca Divine Spirit Inner Fire, quindi è un combo Dragon Priest, anche lui aumenta un filo di utilizzo, lo Spell Hunter sta venendo fuori bene, fa piacere, perché è una tipologia di lista nuova, e questo spesso capita, vengono rilasciate espansioni, nuove carte, tutti nuovi deck, tipo Frozen Shaman, non vede mai utilizzo, lo Spell Hunter post rilascio dell'espansione è stato utilizzato, forse nella prima settimana, nelle prime due settimane, poi subito abbandonato, perché? Perché si è preferito giocare altro, perché? Perché Temporog è troppo più efficiente, perché altre tipologie di deck midrange, quello che è, sono molto più efficienti, invece adesso lo Spell Hunter sta trovando la sua nicchia, le sta venendo fuori meglio, Zoo Warlock e Big Priest. Priest, bene, post patch chiaramente diminuisce il suo utilizzo, perché? Perché di Razakus con il nerf a razza dei chained, il Razakus controlla Priest sta venendo giocato molto meno, non ne vedo parte con grande quantità in ladder, Paladino esplode, esplode in utilizzo, perché il Paladino esplode in utilizzo? Perché il Rogue è andato a droppare in frequenza, quindi cosa succede? Che secondo me c'è stato uno switch tra Rogue e Paladino, mentre prima il deck good to go per rancare, se non si era proprio dei giocatori ferrati in control in Airstone, era il Temporog, Temporog adesso non sta venendo giocato tantissimo, anche se il resto ha una buona lista, penso, penso che altri mi daranno, magari altri mi possono dar conferma, però il Paladino è il deck good to go per chi magari non vuole giocare una lista a control, per chi vuole rancare un po' più velocemente. Il Mage anche rientra in questa categoria, precisamente Secret Mage, estremamente forte, Counter naturale ha liste control Warlock, che siano Cubo o che sia semplicemente control Warlock, l'Hunter timidamente si affaccia, è un discorso che io ho fatto tantissime volte questo, il fatto che venga giocato poco Hunter è il motivo principale, la presenza di Patches the Pirate, perché va a influire troppo sull'early game di questa classe che necessita di avere dei minions su board all'inizio partita. L'Hunter viene fuori anche bene perché non c'è rappresentato Shaman, Shaman è una buona classe secondo me contro Hunter, grazie a Jade Close, Spirit Lash, The Valve, insomma ha capacità di rispondere a liste aggressive, Evolve Shaman sta venendo giocato molto bene, Evolve Shaman era la lista, penso, counter, si si incontrava tipo aggro Druid del passato, con dentro il Vigius Fledgling, con dentro il Living Mana, perché? Perché avevamo comunque buone rimozioni, avevamo buono controllo, avevamo anche la possibilità di trovare delle cure, Rogue diminuisce tanto l'utilizzo, va bene, Druido finalmente, forse una delle prime volte nella storia di Airstorn che Druido come classe comincia a vedere meno utilizzo, sono contento di questo, sono contento che il Druido venga giocato meno, sennò che ci sia meno Jedi Druido anche in Ladder, anche se la lista rimane competitiva, secondo me a livello di torneo, noi stiamo guardando le informazioni relative alla Ladder, Spirit Lash, scusatemi, non lo Spirit Lash, Milestone Portal, Milestone Portal che è una gran bella carta quando si gioca aggro, perché facciamo non soltanto un danno a tutta la bordo avversaria, ma sviluppiamo anche un minion, alcune volte in un mana drop ci ritroveremo con un 1-3, o un minion che può comunque spostare gli equilibri, per quello che riguarda l'early game, il Druido forse è una delle prime volte veramente post-Cobolan Catacombs che va un po' in sordina, e raga il Druido da quando ha vinto Firebat e Blitzconn è stato giocato all'infinito, è sempre stata una classe estremamente forte, si pensava sempre a post-espansione guardavi le carte del Druido, dicevi eh ma tanto Druido non verrà giocato, eh Druido adesso muore, Druido non va bene, Druido di qua, Druido di là, e poi alla fine invece Druido era sempre forte. Shaman e Warrior restano morti, Shaman e Warrior restano morti, questo per quello che riguarda Airstone Meta Stats, noi andiamo a vedere adesso, come sempre, il nostro Vicious Syndicate, che non è un sito che io ho di mia proprietà, è una coincidenza che si chiami Vicious Syndicate, questi ragazzi fanno un grandissimo lavoro, io mi limito a tradurre, a tradurre i loro articoli, anche se potrei fare direttamente un'analisi mia, cosa è che sta succedendo in Airstone, potrei anche non leggere il Vicious Syndicate, potrei semplicemente fare la mia analisi, la mia disamina, che poi alla fine è sempre simmetrica alla loro, perché le informazioni sono quelle, se giochi ladder un po' le cose, se hai un po' di sensibilità, le riesci anche a riconoscere da solo. Detto questo, andiamo a vedere le loro informazioni, che sono molto molto dettagliate, sono molto precisi, vediamo che per tutti i rank, al primo posto c'è Control Warlock, con una percentuale di Zu Warlock, anche lo Zu Warlock, Zu è una lista che c'è dai tempi dei tempi, è una lista sana, board centric, minion base, da me è sempre piaciuta, è anche tecnica, è una buona lista con cui imparare a giocare a Airstone, è una lista onesta, è una lista che ti insegna veramente il valore del tap, e in che modo tappare durante le partite, quell'equilibrio lì, tappa T2, a turno 3 gioco un minion da 3 mano, gioco un minion non mano e tappo, eccetera eccetera eccetera, questo viene determinato, la percentuale di tap durante la partita, nell'early game, middle, late stage, dal deck che si sta affrontando, quindi cosa significa? Invece che magari se giochiamo contro un deck control, vogliamo un po' aggredire di più a inizio partita, mentre invece se giochiamo un deck mid range, minion base, che poteva essere ai tempo roga, ai tempi, vogliamo tappare un filino di più, per arrivare ad avere più valore, quando si entra in late stage, perché quel vantaggio di 2-3 carte, ci potrebbe permettere di vincere la partita, al secondo posto il Mozart di Airstone, al primo posto Beethoven, al secondo posto Mozart, il Mage, il Mage è una classe estremamente difficile, è una delle classi più difficili da giocare in Airstone, a mio avviso le classi più complicate di Airstone sono Warlock, Mage e Priest, che sono le tre classi caster di World of Warcraft, o comunque della lore di Warcraft, Mage con un secret che va ad esplodere, grazie comunque a carte tipo, Mana Wyrm assolutamente fuori di testa, Explosive, Runes, L'Incubo, e anche comunque, ci sono carte nuove che sono uscite buone, la T esce spezza i game, quando si va a giocare VS Control, e la presenza elevata di Secret Mage in ladder, è determinata anche dall'alta presenza di Control Warlock, o Cube Warlock, chiamatelo come volete. Big Spell Mage, un'alternativa, vediamo che poi c'è lo Spiteful Priest, un'altra lista abbastanza onesta, la Spiteful Summoner, nella mia analisi, delle carte pre-rilascio delle espansioni, sono delle carte su cui ho posto particolari attenzioni, le carte su cui ho posto particolari attenzioni, se avete seguito le mie live, o avete visto i miei video su YouTube, sono queste, e ve le ricordate. Il Cubo, perché era una carta che era in grado di esprimere tantissimo valore, su cui poi dopo è stato buildato, tutta una meccanica, tutto un deck Warlock, lo Spiteful Summoner, anche Colentor ha preoccupato della carta, sarebbe potuto diventare una carta molto cancerogena, e così è stato, e poi un'altra carta che è venuta anche abbastanza bene fuori, di cui tutti ridevano, è il cosiddetto Gianluca, nonché il Grand Archivist, il Grand Archivist che è stato giocato anche in tempo aggro druid, con le ultime Team Festation per un piccolo periodo, però chiaramente il Grand Archivist non è così core nel metà corrente, però quelle diciamo sono le carte che mi hanno, hanno attirato principalmente più attenzione, beh sicuramente anche Explosive Rune, però diciamo che delle carte esotiche, quelle che gli altri magari non consideravano troppo, io sono andato, cioè nel senso non ho parlato tanto di queste tre carte, perché? Perché il loro valore per me rimane alto, rimane alto. Il combo Priest, che viene inteso con la struttura Draghi, sempre come vi ho detto prima, con Divine Spirit Inner Fire, Big Priest, grazie alla presenza di Spellstone, riesce a trovare extra value quando entra in late stage, promette di vincere le partite, Murlock Paladin, off course, con evidentemente questo un aggro, fa piacere vedere l'Hunter, venire fuori con lo Spell Hunter, aggro Face Hunter, sempre per andare ad aggredire probabilmente, liste control, o Mage, poi c'è Kingsbane Rogue, e Miracle Rogue, tempo Rogue completamente, sparito dalla ladder, questo è da osservare, quindi Rogue, fino alle settimane scorse, il tempo Rogue era sempre qua, nei primi due slot, sempre giocato oltre al 12%, Rogue magari quando si andava a vedere, i rank tra 5 e 1, o a Legend, veniva giocato tantissimo, viceversa per scalare, nei rank precedenti, tutto ad un tratto, Nerf, a Patches, Nerf, a Corridor Creeper, e tempo Rogue, Nerf anche a Bonemar, Nerf anche a Bonemar, che era una carta fuori di testa, e tempo Rogue sparisce, tempo Rogue sparisce, viene giocato Kingsbane Rogue, che si pensava fosse un counter, ed rimane comunque un buon counter, contro contro l'Warlock, grazie ai SAP, grazie ai Vanish, grazie alla sua capacità di millare i deck control, e Miracle Rogue, che a me piace, Jedi Druid al 3.5, Shaman e Warrior non rappresentati, andiamo a vedere da rank 5 a 1, contro il Warlock, Zoo Warlock, al 23.9% l'utilizzo di questa classe, Secret Mage, secondo le liste non sono contemplate, Murlock Paladin, Spiteful Priest, Combo Priest, Big Priest, quindi vediamo che il Paladino sale di una posizione, mentre invece il Priest scende di una posizione, l'utilizzo del Mage rimane praticamente invariato, come rimane praticamente invariato l'utilizzo del Warlock, che aumenta di un punto a punto 7, Spell Hunter al 3.4, poi ancora Rogue, giocato in diverse tipologie, Jade Druid, andiamo a vedere a Legend, a Legend Priest da quarto, va al secondo posto, quindi control Warlock, Zoo Warlock, vediamo il combo Priest, al 10.15, interessante, puoi vedere la desamina, che verrà fatta sul combo Priest, giocato a Legend, e per quale motivo questa classe a Legend viene giocata così tanto, ce ne so per quale motivo questo deck, venga giocato così tanto, Spiteful Priest 6.60, Big Priest, Secret Mage, sempre ben rappresentato con Big Spell 18.8, quindi quasi invariato l'utilizzo di Mage, sopra i tre livelli, Murlock Paladin, il Murlock al 9.45, 14.82, 9.64, abbastanza simmetrico, viene giocato tanto tra rank 5 e 1, ricordatevelo, Lanter al 6, Lanter al 6, Warlock al 23, e principalmente il Priest, che passa dal 18.7 al 22.3, grazie all'aumento di utilizzo di combo Priest, che ha la capacità, visto che ci sono diverse tipologie di Priest in questo momento, Big, Spiteful e Combo, la difficoltà dell'avversario nel scegliere Mulligan corretto, perché chiaramente Mulligan di scontro VS, Spiteful Priest, Mulligan contro una classe abbastanza, contro un deck abbastanza aggressivo, tempo base, perché la Spiteful Summoner ti fa comunque tempo, Swing, il combo Priest si inserisce un po' come il Jolly, il Jack of Trades, che ti permette, grazie a quella combo di Vine Spirit, Inner Fire, su Minion, con tanti punti vita, ad andare a vincere la partita, con un singolo turno, in cui si vanno a fare 20-30 danni, su singolo attacco, ok? Warlock Paladin invariato, la frequenza della classe, la frequenza delle classi, vediamo sempre, qua siamo a gennaio, febbraio, post, questa è la zona del post nerf, quindi, intorno al nerf, dopo il nerf, Rogue crolla in utilizzo, Mage esplode in utilizzo, comunque, aiutato anche dall'alta presenza di, di Warlock in ladder, quindi per counterare Warlock, si gioca a Secret Mage, per counterare Secret Mage, si va a giocare probabilmente Priest, e questo è il liet motive, penso, vediamo anche che Paladino, post nerf, esplode in utilizzo, cioè, migliora tanto, arriva a 16.05, e ne trae un beneficio, anche l'Hunter, Piangono, Druido, che, nella sua versione, aggro, giocava sempre Patches, no? Grazie al Marco Velotus, grazie al Power of the Wild, baffavi tutti i tuoi minions su board, quindi, l'aggro druid si indebolisce, Jade druid, non è assolutamente così efficiente, perché? Perché quando si va a giocare contro, Q-block, si viene spazzati via, il druido, soffre, la situazione post nerf, il meta post nerf, Shaman e Warrior, non utilizzati, qua andiamo a vedere, per quello che riguarda i rank, il meta score, e VS Power, il frequency score, VS Power deck, abbiamo Murlock Paladin, Dude Paladin, che è il Silverhand, Agro Paladin, Secret Mage, Big Priest, Rank 5 Legend, Dude Paladin, oh wow, ok, Silverhand Paladin, Tiger 1, da rank 5 a 1, ricordatevelo, mi raccomando, Silverhand Paladin, da rank 5 a 1, al Power score più alto, e la frequenza più bassa, al 3.5, assurdo, assurdo, cioè, frequency score, 3.5, power score, 100, meta score, 51.7, mentre invece, il Murlock Paladin, è giocato molto di più, però il power score, del Murlock Paladin, è il 94.4, poco, poco, poco meno, di 6 punti, in percentuale, però la frequency score, è a 88.8, mentre il frequency score, per quello che riguarda, il Dude Paladin, 3.5, quindi se siete, in particolarmente intelligenti, giocate il Silverhand Paladin, da rank 5 a rank 1, Agro Paladin, Control Warlock, Spell Hunter, a Legend, Silverhand Paladin, con una frequenza bassissima, Agro Paladin, Murlock Paladin, quindi, domina, domina, paladino, Murlock Paladin, Secret Mage, Control Warlock, Dude, cioè, per quello che riguarda, il Power Score, Paladin, Paladin, Secret, Big Priest, Spiteful Druid, Spiteful Priest, Control Warlock, per quello che riguarda, il Power Level dei Deck, per quello che riguarda, il loro utilizzo, al primo posto, abbiamo Control Warlock, seguito da Secret Mage, Murlock Paladin, Spiteful Priest, e Zoo Warlock, sapete come leggerlo? Su tutti i rank. Mi è sembrata una bella analisi, l'ho cercato di fare anche, abbastanza velocemente, spero che vi sia piaciuta, questo è tutto, per questo, scusate se mi ripeto, per questo video di approfondimento, meta analisi, siamo dentro, la terza settimana, del mese di febbraio, le informazioni erano relative, per questo articolo, il VS Data Report, è stato scritto, il 14 di febbraio, quindi sono passati giusto, 4-5 giorni, e restano comunque valide, un buon riassunto, della situazione, di quello che è, il meta standard oggi, vi ringrazio ancora, per aver visto questo video, se siete passati su YouTube, o la pagina Facebook, alla prossima.